Ben tornati, eroi! Siate pronti a tutto. Se fanno un solo gesto, finiscono spriciolati. E ora, il momento tanto atteso da tutti voi. Gli eroi più straordinari di tutti sono... Noi! Cosa? Non avete neanche gareggiato. Pensate di essere così grandi? Tutto questo l'abbiamo realizzato noi! Migliaia di nemici sotto il nostro controllo! Voi fate schifo. E ora che abbiamo registrato ogni vostra mossa, siamo pronti a sostituirvi. Non tenete faremo cose magnifiche per i vostri bondi! Ora basta chiacchiere. Dai! Wow! Ben fatto, Clank! L'ha inventato Bentley. Io ho fatto solo la schiacciata vincente. Come sapevate che non ci avrebbero attaccato? Abbiamo ascoltato Dexter! Si capiva dallo sguardo sfuggente. E poi li ho sentiti. Sembra che siano sull'altra faccia di questo pianeta con tutti i cristalli. Che cannone! Non è solo un'arma! Lo usano per creare portali verso i nostri mondi. Facciamola finita.